...ectopico del serbatoio nei pazienti, perché il paziente ha un recurvatum col genito lieve verso sinistra, cennato sicuramente, e andare a mettere la stessa lunghezza probabilmente ne potrebbe dare dei problemi poi nell'impianto della protesi. Adesso io... Scusami Gabriele, lì lo risentiamo, stavo parlando un attimo da quella che viene a un po' lì, se non sono un po' lì, c'ho? Sì!